Ciao ragazzi, in questo video parliamo del concetto di radice quadrata in algebra. Sostanzialmente la radice quadrata è l'operazione inversa dell'elevamento al quadrato. Cioè, se 3 al quadrato è uguale a 9, sappiamo che la radice di 9 è uguale a 3. Più precisamente vale questa definizione. La radice quadrata di un numero reale positivo a maggiore o uguale di 0 è l'unico numero reale positivo b maggiore o uguale di 0, tale che b al quadrato è uguale ad a. Vale cioè b al quadrato uguale ad a se solo se la radice quadrata di a è uguale a b. Osservate che questa definizione vale solo per numeri reali positivi maggiori o uguali di 0. Questo significa che non possiamo considerare meno 3 la radice di 9. E anzi, quando parliamo di radici quadrate consideriamo solo numeri positivi. Per questo motivo è vero che la radice di a al quadrato è sempre uguale al valore assoluto di a. Dobbiamo quindi considerare solo valori positivi. In maniera simile andiamo a definire la radice cubica come l'operazione inversa dell'elvamento al cubo. Quindi se 2 alla terza è uguale a 8 deve valere che la radice terza di 8 sia uguale a 2. Più precisamente vale questa definizione. La radice cubica di un numero reale a qualsiasi è l'unico numero reale b tale che b alla terza è uguale ad a. Vale cioè b alla terza uguale ad a se solo se la radice terza di a è uguale a b. Osservate che nel caso delle radici cubiche non abbiamo richiesto che a e b siano positivi. Questa definizione vale per numeri positivi oppure per numeri negativi. Come già detto è però importante sottolineare che nel caso della radice quadrata la definizione vale solo per numeri positivi. Quindi nel momento in cui andiamo a considerare la radice quadrata di a dobbiamo assicurarci che a sia maggiore o uguale di 0. Altrimenti la radice quadrata non è definita. Infatti un numero negativo elevato al quadrato non può essere negativo. Se b è minore di 0 non può esistere la radice quadrata di b. Esistono invece come detto le radici cubiche di numeri negativi. Se andiamo a svolgere la radice terza di meno 27 ritroviamo meno 3. Infatti meno 3 alla terza è uguale a meno 27. Un'altra osservazione importante è che le radici possono essere numeri reali irrazionali. Cioè numeri con sviluppo decimale infinito non periodico. Ad esempio radice di 2, radice di 3, radice di 5 ma tante altre sono numeri reali non razionali. E quindi non possiamo scrivere queste radici come frazioni. Possiamo poi generalizzare le definizioni appena viste per introdurre il concetto di radice ennesima. E in particolare generalizziamo il concetto di radice quadrata per introdurre la definizione di radice con indice pari. E quindi diciamo che la radice ennesima con n pari di un numero reale positivo a maggiore uguale di 0 è l'unico numero reale positivo b maggiore uguale di 0 tale che b alla n è uguale ad a. Vale cioè b alla n è uguale ad a se solo se la radice ennesima di a è uguale a b. Ad esempio la radice quarta di 625 è uguale a 5. Infatti 5 alla quarta è uguale a 625. Osserviamo che nelle radici di ordine pari vale sempre la questione della radice di un numero a positivo esattamente come le radici quadrate. Non esiste quindi in generale la radice sesta di meno 7 e in generale non esiste la radice di indice pari di un numero negativo. Generalizzando inoltre la definizione di radice cubica possiamo introdurre il concetto di radice di indice dispari. Diciamo allora che la radice ennesima con n dispari di un numero reale a qualsiasi è l'unico numero reale b tale che b alla n è uguale ad a. Vale cioè che b alla n è uguale ad a se solo se la radice ennesima di a è uguale a b. Come già visto, per le radici cubiche, anche per le radici di indice dispari, a e b possono essere qualsiasi, anche numeri negativi. Da questa definizione ritroviamo ad esempio che la radice settima di 128 è uguale a 2 perché 2 alla settima è uguale a 128. Nel caso di numeri negativi abbiamo ad esempio che la radice quinta di meno 243 è uguale a meno 3 perché meno 3 alla quinta è uguale a meno 243. Possiamo andare a descrivere le radici di ordine ennesimo utilizzando una notazione di tipo esponenziale scrivendo a alla m fratto n uguale alla radice ennesima di a alla m. Cerchiamo di capire meglio questa notazione. Consideriamo 3 alla un mezzo tutto al quadrato. Per le proprietà degli elevamenti a potenza abbiamo che questa potenza è uguale a 3 alla un mezzo per 2 che è uguale a 3 alla 1, cioè 3. Abbiamo perciò trovato che 3 alla un mezzo è quel numero che elevato al quadrato ci dà 3. Ma questo significa che 3 alla un mezzo è la radice quadrata di 3. Questo esempio ci fa capire la validità di questa formula. Concludiamo questo video elencando alcune proprietà delle radici considerando in particolare a e b appartenenti a r tali che a e b siano maggiori o uguali di 0. Consideriamo inoltre i numeri naturali m, n e p maggiori o uguali di 1 quindi diversi da 0. La prima proprietà è quella del prodotto di radicali cioè di espressioni scritte tramite una radice. La radice ennesima di a per la radice ennesima di b è uguale alla radice ennesima di a per b. Ad esempio la radice terza di 4 per la radice terza di 5 è uguale alla radice terza di 4 per 5 cioè di 20. È importante osservare che non vale una proprietà analoga per la somma. Infatti la radice ennesima di a più la radice ennesima di b è diverso dalla radice ennesima di a più b quindi la somma di radici non è la radice della somma. Andiamo poi a riportare le formule di potenze e radici di radicali. In particolare la radice ennesima di a tutto elevato alla m è uguale alla radice ennesima di a alla m. Ad esempio la radice terza di 4 elevata al quadrato è uguale alla radice terza di 4 alla seconda cioè di 16. La radice ennesima della radice ennesima di a è uguale alla radice di indice m per n di a. Ad esempio la radice quadrata della radice terza di 5 è uguale alla radice sesta di 5. Un'altra importante proprietà delle radici è la proprietà invariantiva. In particolare la radice ennesima di a alla m è uguale alla radice di indice n per p di a alla m per p. Cerchiamo di capire meglio questa proprietà tramite un esempio. Consideriamo la radice quinta di 3 alla seconda. Possiamo ad esempio andare a moltiplicare per 2 sia l'indice della radice sia l'esponente del 3 ottenendo radice decima di 3 alla quarta. Questi due numeri sono uguali. Quando si inizia lo studio delle radici ci sono due operazioni particolarmente importanti da capire e in particolare il trasporto dentro o fuori dalla radice e la razionalizzazione. Ho preparato due video completamente dedicati a questi due argomenti. Vi consiglio di guardarli. Ritrovate i link in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a comprendere definizione e proprietà di radici. Continuate a seguire i video di questo canale mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!